Ciao gente bella, come andiamo? Oggi video molto rapido, molto rapido perché è un video che ha inventato una ragazza, Ambra si chiama, l'ho conosciuta oggi grazie a un consiglio di Paoletta Style, che saluto, abbraccio Paoletta, bella. Ambra ha creato questo video, una sorta di video tag, mettiamola così, si intitola Cosa faresti se... Ovviamente nell'info box vi metto il link al canale di Ambra e al video di Ambra, e che appunto ha inventato questo tag. Cosa faresti se... lei scrive la prima parte, tutto il resto sta a voi, insomma, sono domande che mi... insomma, se lo desiderate, insomma, mi potete fare, partendo però da questa matrice, no, che ha scritto Ambra. Cosa faresti se... possono essere domande divertenti, stupide, caciarone, profonde, insomma, uno fa un po' la domanda che gli pare, insomma. Scrivetemi tutti i commenti che volete, quindi tutte le domande che volete qua sotto, tra una decina di giorni, più o meno, chiudo la raccolta, insomma, non differenziata di queste domande, e poi farò il video in cui farò le... insomma, in cui risponderò a tutte queste domande. Quindi, boh, cosa fareste se... chiedetemi, insomma, qua sotto, e cosa faresti? Ecco, nel caso mio, la domanda... va bene, vado. Eh, saluto Ambra, la ringrazio per aver creato questo tag, siete tutti taggati, eh, oltre che essere chiamati in caso per farmi le domande, e, quindi, insomma, ci vediamo poi nel video... le video risposte, insomma. Un abbraccione, state bene, ragazzi! Ciao!